Musica Sconto tra due auto, uno percorsa una Nissan Qashqai, oggi domenica 3 dicembre, poco prima delle 16, all'incrocio tra via Bonaudo, via Caporal Cattano e via Matteotti a Fabria. Le due vetture hanno terminato la loro corsa e mezzo all'incrocio. Sul posto la croce rossa di Rivarolo Canavese e San Francesco al Campo, la croce bianca del Canavese e i carabinieri di Rivarolo. Nell'incidente sono rimaste coinvolte sei persone, cinque che si trovavano a bordo dell'Opel Corsa e una sul Nissan. Intervenuti anche i vigili del fuoco di Rivarolo Canavese e l'elisoccorso 218. Quest'ultimo è atterrato sul piazzale di fronte al Parco Valentino e in rendezvous con l'ambulanza della Croce Bianca. Due feriti che si trovavano sull'Opel sono stati ritrasportati in ospedale, gli altri tre medicati sull'ambulanza, illeso il conducente del Nissan. Grazie a tutti.